Si è abbattuta la mannaia del centro-destra sul parco regionale Sirente-Velino, con il taglio ormai validato dalle votazioni in consiglio di oltre 10.000 ettari. L'unico parco regionale istituito e gestito dalla regione Abruzzo, una regione che ormai dobbiamo parlare al passato era una regione verde, è anche l'unico parco che viene continuamente tagliato da chi si avvicenda nell'amministrazione e da ultimo dal centro-destra. Un'amministrazione che è ormai quella di Marsilio, di Imprudente, della Lega di Forza Italia e di Fratelli d'Italia, che ha deciso di strizzare l'occhio ai cacciatori e a chi la necessità di disboscare e di sfruttare le zone parco, il taglio non porterà alcunché di buono al parco né tantomeno alle comunità. Sono stati ignorati e taciuti nei confronti della cittadinanza tutte le ripercussioni di tipo economico e sociale che si avranno per quei territori che adesso sono al di fuori della zona parco, uno su tutte per quanto riguarda gli agricoltori che hanno subito e che subiranno i danni da fauna selvatica, che adesso vedranno peggiorare la propria situazione, danni inizialmente gestiti dal parco. Questa maggioranza è totalmente incapace di immaginare un territorio diverso, la cosa grave però è che propaganda il proprio ecologismo, la propria sensibilità verso l'ambiente, il risultato di tutto questo è il taglio di oltre 10 mila ettari. Se ecologia significa avere cura, amare la propria casa, non ci potevamo aspettare purtroppo nulla di diverso da una persona che non è abruzzese, come il presidente Marsilio e i fatti lo hanno confermato oggi. Spiace dover portare avanti le battaglie in una condizione in cui anche i diritti minimi, basilari, non solo dei consiglieri di opposizione ma anche dei tantissimi cittadini che si sono fatti sentire, le oltre 150 mila firme raccolte, siano state messe a tacere dall'utilizzo per la prima volta all'interno di questa consigliatura della ghigliottina, ha bypassato gli oltre i 15 mila emendamenti che avevo depositato per far ragionare questa maggioranza nei confronti dello scempio che poi invece ha compiuto. Una mannaia dalla quale non hanno assolutamente intenzione di tornare dietro e che avrà delle ripercussioni evidenti e forti, pesanti, sia sulla tutela della biodiversità e del patrimonio ambientale, sia soprattutto sul valore economico e sociale che il parco poteva avere.